Un viaggio trapassato, presente e futuro alla scoperta dei megatrend, ovvero quelle dinamiche e forze strutturali in grado di modificare il mondo in cui viviamo. Con l'obiettivo di raccontare come i cambiamenti che avvengono nel mondo influenzano molti aspetti della vita, incluso il modo di investire, PICTEAM Italia lancia una nuova serie di podcast in collaborazione con Federico Buffa. Come a secondare il cambiamento ci sono tanti elementi oggi che ci spingono a guardare al futuro e a chiederci, come sarà? Intelligenze artificiali, smart city, nuovi approcci all'alimentazione, studi innovativi in ambito medico, metaverso, concetti e strumenti nuovi che forse sono ancora in fase di incubazione ma che, nel momento in cui ci interfacciamo con loro anche solo sul piano teorico e ipotetico, ci proiettano automaticamente nel futuro. Il mondo cambia costantemente, in modo più rapido e pervasivo di quanto non riusciamo a renderci conto, la domanda che ciascuno si dovrebbe porre e sono in grado di adattarmi o cercherò di contrastarlo? Accogliere il cambiamento e addirittura sfruttarlo a proprio vantaggio non è sempre semplice, l'istinto spesso porta a porre resistenza. Un aiuto in questa direzione arriva proprio dai megatrend, fenomeni globali che influenzano la società e l'economia in modo duraturo per diversi decenni. Attraverso lo studio di queste forze di cambiamento ineluttabili è possibile intravedere il futuro all'orizzonte. Megatrend, le forze del cambiamento, potenti e interconnesse i megatrend sono collegati fra loro e si influenzano reciprocamente. Prendiamo l'esempio dello sviluppo demografico, la popolazione aumenta di 250 unità ogni tre anni. Questo è strettamente collegato all'invecchiamento della popolazione, alla scarsità di risorse, alla perdita di biodiversità nel pianeta, all'urbanizzazione e alla rinnovata attenzione per la salute. Tutto ciò concorre a una presa di coscienza collettiva sul tema della sostenibilità, che al tempo stesso, però, non può prescindere da altri megatrend legati alla tecnologia, ai, virtualizzazione, interconnessione, che saranno in grado di ridurre l'impatto umano sull'ecosistema. Si tratta, quindi, di fenomeni di grande portata e interconnessi, questo li rende una materia di studio complessa, ma anche interessante. E sfidante perché proprio qui nascono le più grandi opportunità di quest'epoca, incluse quelle economiche e di investimento. Dove ascoltare il podcast? Puoi ascoltare liberamente Megatrend, alla scoperta del futuro con Federico Buffa su tutte le principali piattaforme di podcasting. Ogni settimana ti attende un nuovo podcast. Ascolta adesso la puntata introduttiva dell'analisi di PicTem Italia dei principali megatrend del momento. Ascolta il podcast online. Il presente materiale di marketing è emesso da PicT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PicT e Asset Management, Europe, S.A. 6B, Rue du Fortnieder-Gwenwood, L.2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione risorse a pie di pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una Offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.